È possibile il moto perpetuo? Lo vedremo in questo nuovo appuntamento con Attraverso l'Enigma. Iniziamo con lo spiegare cos'è il moto perpetuo. Con moto perpetuo si descrive un movimento che continua indefinitamente senza alcuna fonte di energia esterna. Ci risulta impossibile in pratica a causa dell'attrito. Il moto perpetuo può anche essere descritto come il moto di una macchina ipotetica che una volta attivata continui a funzionare indefinitamente a meno dell'intervento di una forza esterna. Nonostante il fatto che in un dispositivo isolato il moto perpetuo risulti fisicamente impossibile, in termini dell'attuale comprensione della legge fisica, la ricerca del moto perpetuo rimane popolare. Vi sono due generi di moto perpetuo che si dicono rispettivamente di prima e di seconda specie, a seconda che la loro realizzazione violi il primo o solamente il secondo principio della termodinamica. Moto perpetuo di prima specie. Appartiene a questa categoria una macchina che produca in uscita una quantità di energia maggiore di quella che consuma. Una volta avviata la macchina funzionerebbe indefinitamente autoalimentandosi, in evidente violazione del principio di conservazione dell'energia, il primo principio della termodinamica. Molte delle proposte per queste macchine utilizzano magneti come fonti di energia dal nulla ed impiegano sistemi ad attrito nullo. Anche se molti di questi sistemi possono marciare anche per lungo tempo prima di fermarsi, da essi non è fisicamente possibile estrarre energia gratuita. Moto perpetuo di seconda specie. Dispositivi di questo tipo dovrebbero essere in grado di convertire interamente il calore estratto da una sola sorgente a temperatura costante in lavoro. Ciò è in violazione del secondo principio della termodinamica. Un esempio di macchina a moto perpetuo di seconda specie sarebbe una nave capace di avanzare sottraendo calore all'acqua del mare e trasformando quel calore in energia cinetica, senza cederne una parte a una sorgente più fredda dell'acqua di mare. Il primo principio della termodinamica sarebbe rispettato da tale macchina termica a rendimento unitario. Oggi si considera comunemente il secondo principio della termodinamica come una conseguenza della meccanica statistica e la sua validità è ritenuta un fatto meramente probabilistico. Di conseguenza sono possibili violazioni del secondo principio, sia pure con probabilità piccolissima. Quella che resta esclusa è la possibilità di provocare tali violazioni in modo riproducibile e quindi utilizzabile. Scienziati e dilettanti se ne occupano da tempo, proponendo strane soluzioni, curiosi apparecchi basati sull'acqua corrente, sull'attività volcanica e su molte altre cose. Il vero inventore del moto perpetuo è però colui il quale costruisca una macchina che crei energia senza dipendere da fonti esterne. Si può prendere in considerazione anche lo sfruttamento della forza di gravità o del magnetismo terrestre, ma quanto ne sappiamo nulla del genere è stato finora realizzato, se si esclude il congegno che va sotto il nome di ruota di Orphirius. Tutte le testimonianze in proposito negano che si sia trattato di un trucco, ma il segreto non è stato mai scoperto. Il suo creatore era nato a Zittau, in Sassonia, nel 1680. Si chiamava Johann Ernest Elias Bissler. Doveva certo essere un tipo strano anche perché scelse il suo pseudonimo disponendo l'alfabeto in cerchio e prendendo le lettere diametralmente opposte a quelle del cognome. Ne ottenne Orphir, che l'utilizzò in Orphirius. Aveva una mente molto versatile, tanto che studiò medicina, teologia e pittura prima di dedicarsi alla meccanica e di creare le sue ruote del moto perpetuo. Espose la prima aggera in Turinja nel 1712. Aveva un diametro di circa 91,5 centimetri e uno spessore di circa 10,5. Non soltanto continuava a girare da sola dopo essere stata messa in moto, ma aumentava la propria velocità ed era in grado di sollevare pesi di qualche chilo. La dimostrazione non ebbe molto successo, il che va soprattutto attribuito al carattere dello studioso, specializzato nella gentile arte di farsi molti nemici, come sottolinea un suo biografo britannico. La seconda macchina venne esposta a Droschwitz, presso l'Ipsia. Misurava circa 152,40 centimetri di diametro e 15,25 di spessore e poteva sollevare un peso di circa 2 chili. La terza fu presentata a il diametro era aumentato a 183 centimetri, lo spessore a 31 centimetri. Nel 1715, dopo averla accuratamente esaminata, un comitato di esperti dichiarò la ruota ha la proprietà di muoversi a destra e a sinistra senza l'intervento di forze esterne e di sollevare perpendicolarmente una pietra del peso di oltre 31,5 chili. Intanto Orpheus, veniva attaccato sempre più violentemente dai detrattori, alcuni dei quali arrivarono addirittura a sostenere che se l'invenzione fosse stata vera, sarebbe stata contraria alle leggi naturali. Il suo creatore andava di conseguenza punito. Si sarebbe trattato di un'autentica ruota del diavolo. Beslir lasciò Maresburg amareggiato e approdò a Kassel, nell'Asia, dove regnava allora il langravio Carolus, il quale lo prese sotto la sua protezione, nominandolo consigliere comunale. Fu nel 1717 che presentò la sua ruota più grande e, in proposito, il professore olandese S. Gravesand scrisse a Isaac Newton. L'inventore ha una spiccata propensione per la meccanica, ma è lontano dall'essere un profondo matematico. La sua macchina, tuttavia, è sorprendente. Si tratta di una ruota vuota, di una specie di tamburo con uno spessore di 3,65 metri e molto leggera, consistente di svariate traverse di legno intelaiate, coperte da un canovaccio per impedire che si veda all'interno. Ne ho esaminato gli assi e sono fermamente convinto che nulla al di fuori della ruota contribuisca al suo movimento. Quando la toccai leggermente rimase ferma, ma quando le impressi una certa velocità la dovettero arrestare con forza. Se la lasciavano andare acquistava la massima velocità in tre o quattro giri, dopodiché volgeva in 35-36 giri al minuto. Una descrizione analoga venne resa dal barone Fischer, architetto dell'imperatore d'Austria, al dottor J.T. Desaguliers. La ruota rimase esposta a Weinstein parecchi mesi e fu esaminata da molti studiosi. E tutti si persuasero che non si trattava di una frode. John Rowley, un costruttore inglese di apparecchi matematici, tornato in Inghilterra asseri di aver visto a Kassel, il vero strumento del moto perpetuo. Il testo ufficiale della macchina fu compiuto negli anni 1717 e 1718. Il 31 ottobre 1717 fu chiesto a Orfirius di trasportare la ruota dalla stanza in cui era installata in un'altra, sempre nel castello di West Stein, dove non c'erano pareti contigue e dove ognuno poteva girarle intorno da ogni parte. L'inventore acconsentì. Il 12 novembre il Langravio, con alcuni suoi funzionari, esaminò la ruota nella sua nuova sede e dopo averla vista in libero e rapido movimento, fece chiudere le porte, le finestre e tutti gli altri accessi alla stanza, apponendovi i sigilli ufficiali. Il 26 novembre i sigilli vennero spezzati e la stanza venne aperta. La ruota continuava a volgere come prima. La stanza fu richiusa con le stesse precauzioni. Il 4 gennaio 1718 fu di nuovo aperta, i sigilli erano intatti. La ruota girava regolarmente. Il Langravio rilasciò un certificato a Orfirius datato 27 maggio 1718, dichiarando che le precauzioni prese erano state tali da escludere il minimo sospetto che la macchina fosse un'impostura. Fischer propose ai britannici di acquistare la ruota di Orfirius, ma intanto l'inventore, in un impetto di collera, sentendosi fatto oggetto di dubbi ed ironiche affermazioni, aveva distrutto la macchina. Questi i fatti. L'ultimo accurato esame sulla macchina di Weinstein fu eseguito dal professor W.J. Gravensend, il quale però, durante la sua verifica, fece un tragico errore, che offese terribilmente la sensibilità di Orfirius. Non si sa come, se con impudenza oppure ingenuità, Gravensend riuscì a sbirciare il meccanismo interno della ruota, forse scostando appena per un attimo il tessuto applicato ai due lati. Comunque un gesto durato una frazione di tempo troppo breve per poter capire il funzionamento. Di conseguenza l'inventore temeva gli venisse plagiata l'esclusiva prima del tanto agognato riconoscimento universale. Il giorno dopo all'ispezione di Gravensend distrusse in mille pezzi la sua ruota e poi scrisse sul muro del salone tutto ciò per la curiosità impertinente del professor Gravensend. A conferma vi è la lettera inviata successivamente a Sir Isaac Newton, suo intimo amico dove Gravensend, ad eccezione dei precedenti esaminatori, in modo singolare descrive diverse caratteristiche salienti della ruota, che se non ne avesse veramente visto all'interno non avrebbe altrimenti potuto sapere. È una ruota vuota, una specie di tamburo, molto leggera, formata all'interno da svariate razze di legno incrociate fra loro e montate in sequenza, come a formare qualcosa di molto simile a un'intelaiatura. Se Orphirius avesse aspettato soltanto poche ore, avrebbe ricevuto la conferma ufficiale che l'apparecchio operava da solo, senza essere collegato in alcun modo con una fonte di energia esterna. L'inventore, usando un linguaggio cifrato, nascose gli elementi per ricostruire la macchina in alcune delle sue opere scritte. Nel libro Triumphans Perpetuum Mobile Offrianum presenta una teoria enigmatica, la quale in alcuni passaggi, se interpretata alla lettera, sembra significare una cosa, invece ne significa un'altra. Quindi non contiene un'esposizione del meccanismo, in senso esplicito e razionale, ma simbolico. Un solo breve passo, per lo più messo pure fra parentesi, va interpretato alla lettera ed è paradossalmente la chiave di tutto il principio del funzionamento. Naturalmente, se analizzata con parametri convenzionali, tutta la teoria apparirà contraddittoria e insignificante. Fu invitato in seguito a ricostruire la sua ruota, ma non lo fece. Morì nel novembre 1745. Della sua vita e della sua invenzione non si trova traccia che in qualche rarissima monografia. Ora, se ammettiamo, come dobbiamo ammettere, che la macchina di Orphirius non era mossa da qualcosa di esterno, né dobbiamo dedurre che una forza interna la doveva far agire. Ma quale? Qualcuno suggerì la presenza di un uomo nascosto, un'ipotesi che venne subito scartata da ogni persona di buonsenso. Per quanto minuto fosse, quell'ipotetico essere, non avrebbe potuto sopravvivere in un luogo dove, come nelle celle di tortura medievali, non aveva modo né di sedersi e né di sdraiarsi. Del resto, il langravio, che era espertissimo in matematica e fisica ed ebbe modo di esaminare accuratamente la ruota all'interno, la trovò vuota e dichiarò come S. Gravensend e Fischer che la macchina era tanto semplice da poter essere costruita dopo le opportune istruzioni da un apprendista falegnale. Un certo John Finn dichiarò che il motore doveva essere nascosto nell'asse e che essendo Orphirius, tra l'altro, esperto in orologeria, avrebbe inventato qualcosa che poteva far muovere a lungo l'aggeggio. Anche questa ipotesi dovette essere scartata. Un'altra assurdità fu enunciata quando si disse che la ruota era mossa da un minuscolo motore elettrico. È vero che lo studio dell'elettricità ebbe inizio con W. Gilbert nell'anno 1600, ma sino all'inizio del 1700 rimase a livello delle nozioni qualificative e la realizzazione della pila di volta che aprì la strada allo studio e all'applicazione della corrente elettrica e dei suoi effetti avvenne nel 1799. Le ricerche sui fenomeni elettromagnetici cominciarono e si svilupparono nel secolo seguente. Così il mistero è stato tramandato fino ad oggi. Orphirius era un impostore, un abile ciarlatano che, utilizzando un trucco incredibilmente ingegnoso, ha costruito le sue ruote e le ha esibite? Mentre tutti gli esaminatori, per quanto abili e intelligenti, fra cui anche il principe Charles, l'unico ad aver ispezionato la ruota all'interno, non si sono accorti dell'inganno? Oppure è possibile che questo strano personaggio, eccentrico e poco amato, ossessionato da un sogno, sia incappato in qualche combinazione di leggi fisiche che gli ha permesso di raggiungere una nuova singolare scoperta? Comunque sia, da un'analisi obiettiva e molto approfondita dei fatti e delle inconfutabili testimonianze storiche, l'ipotesi che poteva essere solo un imbroglio risulta alquanto superficiale. La ruota di Orphirius non violava nessuna delle leggi della termodinamica, perché non aveva nessun rapporto con esse, in quanto apparteneva a un diverso paradigma. Non funzionava con il niente, dato che il niente, secondo la razionalità, non esiste neppure. Anche se paradossalmente, secondo la metafisica, è proprio il nulla, l'unica realtà esistente. Centinella di inventori tentarono di realizzare il moto perpetuo. Subissarono di disegni e descrizioni i potenti di un tempo, gli studiosi più insigni, gli enti statali, tanto che già nel 1775 l'Accademia delle Scienze Francese dichiarò che non avrebbe più preso in considerazione progetti di questo genere. Ma dal marchese di Worcester a Henry Dirks, che ne riprese il disegno, e ad altri ancora, gli archivi di tutte le istituzioni scientifiche traboccarono di invenzioni di questo tipo. Non mancarono certo gli imbroglioni. Nel 1813 un certo Redhoeffer espose ad esempio a New York una macchina del moto perpetuo, ma in seguito a un esame accurato venne scoperto che la stessa era collegata da un sottilissimo filo a una camera tigua, dove un vecchietto girava in continuazione una manovella. Nel 1830 George Aery, direttore dell'osservatorio di Cambridge, astronomo reale, matematico e fisico d'eccezione, dimostrò che il moto perpetuo non è possibile. Resta però il mistero della ruota di Orpheus e del suo creatore. Chi era? Perché dedicò la vita intera a una scoperta che morì con lui. Orpheus ci appare una figura esasperata, puerilmente appassionata, ma tuttavia tenace, tale da dimenticare ogni rapporto umano per perseguire una meta mai raggiunta da altri.